...della Francia, ancora Pavard, cross sul secondo palo, Bimbappe! E' grande risposta di Siriguo, poi arriva Untiti per il vantaggio della Francia. Ha segnato Untiti. Era salvato Siriguo sulla conclusione quasi a botta sicura di Mbappe. Ma lì in agguardo... ...il pallone Balotelli, l'inserimento di Chiesa, fa spazio per Pellegrini, lo vede Balotelli che cerca la conclusione. Ballone sul fondo, un po' egoista questa volta al centroavanti azzurro. Sì, si era aperto bene a sinistra e si era liberato Pellegrini, poteva sicuramente servirlo, ma la sua intenzione era quella di cercare di sorprendere il portiere. ...in mezzo, Griezmann, retropassaggio verso Kantè che carica il destro, il palo! Salva l'Italia! E questo giocatore, oltre a correre, a cucire il gioco, a recuperare palloni... ...su di lui Bonucci, gioco di gambe di Mbappe, aspetta l'arrivo di un compagno, poi fa tutto da solo Siriguo! ...spiora l'autogol Caldara che riesce... ...eccola qui, di nuovo la giocata di Mbappe, si è allungato Siriguo, poi il pallone ha colpito Caldara che è riuscito però a recuperare. ...poi Mbappe, carica il destro, Mbappe! Sul fondo, per un soffio! Mamma mia, bellissima perché è riuscito a cercare il colpo di... ...da Mandragora, ancora Lucas, supera Mandragora, va giù, viene concesso il calcio di rigore, ma c'è Lavar, vedremo se sarà... ...c'è Griezmann! 2-0 per la Francia al 29esimo! Rigore calciato molto, molto bene da... Parte Balotelli, Ioris risponde, Bonucci! Accorcia le distanze l'Italia con il capitano Bonucci, su punizione battuta dal vice capitano Mario Balotelli, rientra in partita l'Italia, un'iniezione di fiducia importante. Mario Balotelli che tira sul portiere, con la forza che... ...in posizione regolare, ha girato Sirico, si ferma Mbappe, il pallone di nuovo in mezzo, intervento in scivolata dalla parte opposta, sbuca Griezmann, poi Pogba, tocco indietro, carica il destro, Tolisso! Scuora il palo, ma che pericolo per gli aggiunti! Ma che azione, ma che azione ragazzi! Mbappe che fa delle cose straordinarie, che riesce a liberare una palla in mezzo... Mbappe pensa alla conclusione, cerca un dribbling di troppo, bravo Caldara... Dembélé! È un capolavoro! Dembélé, all'incrocio dei pali, realizza il gol del 3-1 e merita tutti gli applausi giustificatissimi dell'Allianz Riviera. Pubblico che si alza in piedi e che applaude questa bellissima conclusione, il pallonetto all'incrocio di terra. Un pallone velenoso dato da D'Ambrogio Giorgione... Cerca il cross verso Balotelli, il colpo di testa di Balotelli! Spiora la traversa, ma c'è una spinta che viene contestata, forse a Balotelli ci sarà, credo, un calcio di punizione. Adesso rivediamo. Ma direttamente l'arbitro non mi sembrava che fosse intervenuto. Comunque il pallone, compagni, converge Chiesa, cerca Cristante sul fondo. Quello che dicevamo, compagni l'anno prossimo, il cross si è coordinato bene! E' grandissimo Sirigu che fa una strepitosa parata, bravi...